Vuoi conoscere il tuo V2 Max? Uno dei test più utilizzati è il Cooper 1.5 mile test, che consiste appunto nel correre 1.5 miglia pari a 2414 metri nel minor tempo possibile. Dopo un buon riscaldamento esegui il test per stimare il tuo massimo consumo di ossigeno. Una volta eseguito il test scrivi qui sotto nei commenti il tuo risultato, ti risponderò con la stima del tuo V2 Max.